Tempo leggermente instabile per il transito di una debole perturbazione in quota. Nei prossimi giorni pressione in aumento e tempo in miglioramento. In Toscana sabato 20 giugno, cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne e in particolare sui rilievi dove non si escludono isolati rovesci. Venti deboli o moderati occidentali sulla costa, variabili nelle zone interne, mari poco mossi o localmente mossi, temperature minime stazionarie, massime stazionarie o un lieve aumento. Sul territorio provinciale, cielo in prevalenza, sereno o poco nuvoloso. A Lucca e nella Piana, temperatura minima 13, massima 23 gradi. A Castelnuovo e zone montane, minima 9, massima 22. A Viareggio e sul litorale, minima 13, massima 20 gradi.